amici di at sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino continuiamo ad occuparci di serie 2 maschile lo facciamo andando oggi nel girone nord e più precisamente in casa della reale mutua torino 81 e per questo è un piacere riaccogliere nel nostro salotto virtuale il centro boa del 7 allenato da simone aversa marco costa ciao marco bentrovato un piacere di averti in nostra compagnia ciao andrea grazie per l'invito e un saluto a tutti marco io parto come sempre dall'ultima uscita ufficiale la reale mutua torino 81 non fa sconti regola nettamente l'antenore plebiscito padova e tiene il passo delle dirette rivali in zona playoff ti chiedo quali indicazioni vi lascia la netta vittoria con i veneti ci eravamo ci eravamo prefissati di fare una buona gara con il padova anche in preparazione a quella che sarà la partita di questo sabato molto importante e avevamo preparato la la partita con il padova in modo comunque serio perché è una squadra come le altre anche se magari è un po più inesperta però ogni partita importante per arrivare alle partite successive che alla fine sono quelle che contano per arrivare ai a esaudire i propri sogni i propri sogni i propri obiettivi che ci si prefissa a inizio stagione durante la stagione assolutamente c'è una volata vincente da vivere c'è quello che secondo me il desiderio di ogni sportivo è il momento per il quale ci si allena un anno intero non giocare le partite da 20 a 3 ma le partite nelle quali la posta in palio pesa tanto magari ci si vorrebbe arrivare con un pizzico di serenità in più però credo che questa sia l'adrenalina per la quale lo sportivo viva sì questa è l'adrenalina per cui ognuno di noi che fa questo sport vive perché alla fine è sicuramente bello vincere le partite però secondo me le più belle e le più avvincenti soprattutto le più belle da vincere sono quelle con le squadre forti e preparate con i quali appunto il risultato è sudato non è scontato e bisogna crederci e mettere ancora quello quello sforzo in più per arrivare alla vittoria che se alla fine arriva è sempre la soddisfazione più grande se devi individuare le chiavi della vostro successo contro i veneti dove concentri la tua attenzione comunque concentro l'attenzione sul sul gioco di squadra perché comunque sapevamo che fosse una squadra meno preparata di noi più anche magari inesperta però comunque sono quelle partite dove a volte il gioco di squadra viene meno in quanto ci possono essere dei soggetti all'interno della squadra che pensano di più al gioco individuale però questo non è avvenuto e secondo me è la chiave che alla fine ci ha fatto proprio giocare bene come squadra eh restando uniti non sottovalutando la partita e giocando come se fosse comunque una partita e lo era una partita molto importante del campionato per mantenerci sempre eh nella zona alta della classifica avete sicuramente avuto modo di rivalutare il match insieme a mister simone aversa che tipo di riflessioni avete condiviso insieme al tecnico abbiamo condiviso esattamente quello quello che ho detto adesso che comunque siamo stati bravi a restare concentrati eh sul pezzo comunque continuando a giocare senza abbassare il ritmo al livello del gioco certo ed era importante per quello che dicevi tu in sede di introduzione la mentalità vincente si costruisce anche nelle partite scontate non è mai un interruttore da accendere o spegnere a proprio piacimento no? Sì sicuramente bisogna sempre mantenere l'attenzione perché è anche in queste partite che ti prepari a appunto alle partite più difficili a a quelle che contano maggiormente più complicati. Assolutamente siamo in una settimana cruciale lo dicevamo a microfoni spenti c'è alle porte un match che può valere un'intera annata ti chiedo prima di andare nel dettaglio tecnico proprio a livello di clima che aria si respira nello spogliatoio a poche ore da da una sfida che io dico pesa oro sia per voi che per i vostri avversari? Ma nello spogliatoio c'è un clima abbastanza sereno ma non eh in negativo diciamo in positivo perché siamo tutti concentrati e focalizzati sul raggiungere il nostro obiettivo appunto che sarà vincere la partita di sabato ma senza caricarci di troppe pressioni che alla fine possono portare a fare brutte figure tra virgolette o eh non arriva non centrare l'obiettivo appunto. Quanto sarà importante l'apporto dei vostri tifosi in una battaglia che apre le porte del paradiso chiamato playoff? Sarà importantissimo perché come eh abbiamo dimostrato nei playoff dell'altrano contro Napoli eh avere la piscina la piscina piena ci ha sempre aiutato è stato quel eh come dire quel giocatore in più che ci dà la spinta e la forza per eh reagire magari nei momenti eh più difficili e comunque giocare sempre sentendosi ehm aiutati dalla parte del del proprio pubblico dei propri tifosi. Assolutamente entriamo allora nel vivo sabato vi attende la penultima di regular season arriva la monumentale il chiave di nuoto in un match che è una finale anticipata con vista sui playoff eh tre punti che pesano una tonnellata sia per voi che per i vostri avversari fatta questa premessa che match ci aspettiamo? Secondo me sarà un match bellissimo come come è stato eh anche solo l'andata in caso loro ehm contro appunto contro il chiavari ehm sarà un match sicuramente importante per noi e per loro per quanto riguarda i tre punti perché è letteralmente un match da eh dentro fuori parlando dei playoff ehm comunque secondo me sarà sarà bello perché da una parte dall'altra c'è comunque un tasso tecnico eh tecnico tattico elevato appunto e quindi saranno eh i dettagli eh a fare la differenza sul risultato di questo match. Chiudo con l'ultima battuta quali possono essere le chiavi di questo match per la Torino 81? Secondo secondo me secondo la squadra secondo l'allenatore le chiavi saranno sicuramente fare eh attenzione ai giocatori di spicco che hanno loro in rosa quelli eh più esperti tecnicamente più avanzati anche tecnicamente più avanzati ma senza sottovalutare nessuno perché appunto sono una squadra completa con giocatori eh giocatori importanti e individualmente e in ogni in ogni ruolo. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Marco Costa per la sua disponibilità do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Marco grazie mille. Ciao Andrea grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.